Ciao persone gritterose, oggi farò il room tour. Si entra dal bagno, si questo qui è il bagno, questa qui è la porta del bagno e di camera mia. Eccoci qua, qui nell'angolo ho questi poster, con Omnord Simpson, la mia tenda che divide il corridoio lì, il mio mega armadio, il mio letto, altri poster, questo qui l'ho preso a Londra, là ci sono le rune di Shadow Antes, ma adesso li faccio vedere da più vicino, qui sempre il letto, adesso siamo entrati da lì, comodino, le rune che ho disegnato io, calendario, foto, è un po' buio scusate, ma non c'è bel tempo, quindi non posso aprire la finestra, appunto, finestra, e premetto, le uniche cose in ordine in camera mia sono le mensole DVD, come vedete, sono abbastanza ordinate, la casetta lì dove ho avuto i giochini di quando ero piccolina, i miei peluche, che non sono solo questi, gli altri sono nel sottotetto, non sono solo quelli che mi piacevano, il disegno della mia parabatai, i libri che devo ancora leggere, tutti questi, più tutte la fila che c'è qua dietro, vedete, non sono molto ordinata, e anche, vabbè, il porta cd è abbastanza in ordine, e appunto, questa è la seconda mia insola di DVD, così la vedete meglio, e appunto anche la libreria è abbastanza ordinata, e si trova, adesso è a sinistra della porta dell'entrata, mentre quando si entra è sulla destra, non è molto grande, però, è la mia camera, in questo posto l'ho preso a potterra d'uno, vediamo se accendendo la luce, vi leggete la frase che è bellissima, comunque c'è scritto, tra le pagine di un libro, si possono incontrare i propri sogni, e trasformarle in realtà, potterra d'uno, Albus Silente, scherzo, c'è scritto, All Always Spot Red, ho sbagliato, però vabbè, comunque è una frase che potrebbe dire anche Silente, e niente, qua ho preso, questo mini poster di Shadow Antis, perché non avevo niente poster di Shadow Antis, quindi, ho aggiunto questo, poi, qualche giorno stamperò anche, due poster di Ruby Red, qui c'ho, il poster, il mega poster di Tiziano Ferro, e niente, questo book tag finisce qui, cioè, book tag, se buonanotte Sabri, il room tour finisce qui, faccio una panoramica, del mio disordine, qua sulle mie, due scrivanie qui sotto, altri peluche, cioè, quella lì, la borsa dove ho fatto, dove ci sono tutte le cose, che ho studiato per diventare, insegnante di equitazione, altri peluche, i poster di Johnny Depp, e tutta la mia libreria, nella sua bella perfezione, che non ci sono più libri, tra l'altro, ho comprato un'altra, ma non saprei neanche dove metterla, perché già, la mia camera è tutta questa, quindi, ecco, me ne hanno chiesto in tre persone, della room tour, quindi, ho deciso di farla oggi, visto che, avevo del tempo libero, quindi, sì, e niente, spero che questo video vi piaccia, e alla prossima, ciao persone glitterose! Grazie! Grazie!